Acquedotto del Fiora come al solito partecipa agli eventi e alle premiazioni che anche quest'anno riguarderanno i migliori giocatori del calcio giovanile. Tutti gli anni noi abbiamo partecipato perché lo sport, perché il sociale, sono delle cose che a noi stanno nella pelle. Acquedotto del Fiora si muove proprio a sostegno di queste iniziative. Quindi anche quest'anno partecipiamo con la donazione di un premio, faremo la premiazione del miglior calciatore e lo faremo attraverso un disegno realizzato dai ragazzi della scuola Isis di Follonica, dalla prima A dell'Istituto Sociosanitario. Rappresenta un elemento estremamente importante perché nel premio è raffigurato l'importanza dell'acqua e della sua essenzialità.